Con la partita giocata ieri, l'anticipo fra Lucchese e Roma, ecco il gol di Muzzi con cui la Roma è andata in vantaggio, la Roma che ha vinto 1-0 all'andata e questo gol è alla mezz'ora, prima che scada il primo tempo il raddoppio passaggio di Muzzi a Rizzitelli 2-0. In apertura di riprese, di ripresa Lucchese accorcia le distanze con questo gol di Pascucci su respinta di Cervone.